Non è la discussione sul sopra o sotto il 3 per cento, ma è il fatto che alcune forze politiche, tra cui la vostra, ha sostenuto che il fatto che il Governo immaginasse all'interno di un pacchetto di coperture molto ampio, molto più ampio di ciò che è necessario per corrispondere all'impegno dei 1.000 euro annuali a 10 milioni di lavoratori, quello che è necessario non è lo sforamento del 3 per cento, ma è il rispetto del 3 per cento con una eventuale, possibile, verificheremo se necessaria, modifica dal 2,6 al 3 per cento.